riscoprire un contatto più vero e intenso con la natura attraverso un gesto semplice e spontaneo come camminare a piedi nudi in un bosco e l'esperienza che offre il percorso di barefooting di cascina brero struttura per la didattica e l'educazione ambientale all'interno del parco regionale la mandria a venaria reale 30 diverse esperienze sensoriali lungo 600 metri di sentiero ad anello che vanno percorsi scalzi per sentire sotto i piedi il caldo e il freddo della terra battuta per apprezzare la consistenza dei tronchi di legno e la forma avvolgente delle pietre e perché no per lasciarsi andare al piacere di attraversare un guado di fango la proposta è quella di venire più a contatto con la natura e di avere un percorso che va bene per chiunque famiglie anziani anche disabili perché è molto semplice perché andare a piedi nudi è una pratica che si si è diffusa molto in america in altri paesi del nord europa in germania in francia nel nord della francia ma che non è conosciuta in italia quindi siamo la prima rete che si troverà a essere promossa nel nord della dell'italia nella parte occidentale dell'italia il sentiero di cascina brero fa parte di una rete di cammini sensoriali realizzati tra italia e francia nell'ambito del progetto trasfrontaliero nat sense danni sia morge passando per il parco fluviale gesso estura sono infatti quattro i percorsi immersivi che tra acqua terra e boschi permettono di riscoprire sensazioni e abilità troppo spesso dimenticate sembra proprio che apriamo delle dei canali che avevamo in qualche modo dimenticato o che magari sperimentiamo solo in alcune occasioni ad esempio il mare al mare siamo abituati a stare senza scarpe ma nel resto dei momenti noi invece la parte del gioco è quella che stupisce forse di più e poi anche il fatto di mettersi un po alla prova provare a fare delle cose che subito sembrano non tanto facili ma in realtà poi con un po di esercizio sono facili insomma il parco torna così ad essere luogo di benessere ed incontro soprattutto dopo i lunghi mesi di confinamento durante i quali l'emergenza sanitaria ha fatto capire l'importanza e la necessità di vivere all'aperto